Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro San Ten Chan, facendo la stessa. Beh niente, sono un po' triste, innanzitutto perché per la terza volta il mio tablet Euro case che una porcheria mi ha piantato e quindi devo andare al servizio tecnico prima che finisca la garanzia di fabbrica, poi c'è una garanzia estesa del rivenditore, ma poi sono molto triste perché vabbè sono disoccupato come forse molte e molti di voi. Mi apparto un po' dalla strada. Dicevo, sono triste perché come molte e molti di voi anche io sono disoccupato e quando mi si romperanno tutti i miei ordini, aggeggi ed attrezzi tecnologici non li potrò sostituire. Quindi io contavo molto, ma molto, di fare soldi con YouTube. Se tutti e tutti voi mi volete continuare a seguire, per favore diffondete i miei video, fateli vedere, fate clic nei banner pubblicitari, forse YouTube arriva a darmi 100 dollari perché ne ho proprio bisogno. Io ho un computer vecchio di 5 anni, un cellulare che già ci avrà quasi 3 anni, anche quello che sto utilizzando, tra poco ci avrà un anno, ma è vecchio tecnologicamente parlando, è un Nokia Asha 302. E poi vabbè il tablet che forse non potrò più recuperare, che mi è costato molto per essere la porcheria, che è una filmatrice vecchia, è un computer di due nuclei vecchio del 2010. Quindi lancio un appello a tutti e tutti voi di solidarietà, se mi volete aiutare io non vi chiedo denaro, ma vi chiedo che guardiate tutti i miei video, che con uno sforzo ho cercato di condividere con tutti e tutti voi, e poi che li compartiate ai vostri amici, parenti e familiari, vi prego, se state guardando questo video, compartitelo con i vostri contatti, perché più volte li vedranno, e forse più volte mi avvicinerò io a poter guadagnare i miei primi 100 dollari. E' passato un altro pittoresco carrito trainato a cavalli e con ruote di auto, come già avrete visto in un altro mio filmato. Beh, allora spero che i miei video vi piacciono, vi faccio con immenso piacere, ma anche degli sforzi, e poi vorrei rinnovare il mio parco tecnologico e guadagnare qualcosa. E quindi vi prego, vi pregherei, se volete aiutarmi, supportarmi, di vedervi tutti i miei 425 video, e di farvi vedere ai vostri amici, parenti e familiari, ma anche ai vostri peggiori nemici, perché tanto non è detto che siano nemici anche miei. Fatevi vedere a tutto il mondo, rilincate i miei video nelle reti sociali, aiutatemi per favore, sono disoccupato e vorrei che YouTube, fate in modo che YouTube mi paghi. Quindi questo è un appello da cuore a cuore, aiutate questo voraccio ad avere un soldo, perché sennò se mi si brucia il computer, come già mi è successo nel 2006, non lo potrò questa volta più ricomprare. Questo che ho adesso l'ho comprato nel 2010, me l'ha comprato mia madre, l'altro se mi è bruciato dopo 5 anni nel 2006, o dopo 7 anni. E quindi, vi prego, aiutatemi a che se questa volta il computer mi si brucia, che io ne possa comprare un altro, perché sta lì e per andarsene, è sempre più lento. E poi voglio un Galaxy S5, oppure Note 4, oppure un LG G3, per fare dei bei video, caricarli direttamente dal cellulare, perché magari posso fare a meno del computer. Con il wifi in casa e il carico dal cellulare. Allora mi raccomando, aiutatemi. Vi piacciono i miei video? Se vi piacciono, cercate di aiutarmi. Guardateli tutti, fate clic nei banner pubblicitari, e poi diffondeteli per quanto vi è possibile i video che vi piacciono di più, in tutte le reti sociali. Per favore, ve lo chiedo col cuore, il vostro San Ten Chan, sempre per servirvi, però mi raccomando, fate che YouTube si obblighi a pagarmi almeno 100 dollari, per soddisfazione mia, per esserci riusciti, per superare tra tutti noi la soglia della visibilità. Non lasciatemi invisibile. Soprattutto, non lasciatemi solo. Ciao. Che poi se voi guardate i miei video, e li commentate, io guarderò i vostri. Una mano lava l'altra. Io mi iscrivo ai canali che si iscrivono al mio, e guardo i video di chi guarda i miei. Almeno cerco di farlo. Poi, scrivetemi delle domande, dei commentari, e magari mettete il link dei vostri video, fatemi delle video risposte. Ciao, cercherò di rispondere a tutti, però mi raccomando, guardate i miei video, tutti, in modo che forse se raggiungo, supero le 100.000 visioni del canale, YouTube mi dà 100 dollari. Vi prego, eh? Grazie. Arrivederci, allora. Eccomi di nuovo. Il mio problema, per avere maggiore visibilità in YouTube, è che alcuni video miei, che li ho caricati di recente, li hanno visti 12.000 volte, 4.000 volte, 2.000 volte, 1.000 volte, 500 volte, a volte anche 600, e alcuni video che ho caricato da più di un anno e mezzo o due, li hanno visti 40-60 volte. Non so, perché continuo a fare dei video che non li vede quasi nessuno, e altri video che li hanno visti 5.000 volte, io a volte vorrei che le vedessero tutti tante volte, a tutti i video, e quindi vi invito di nuovo di guardare tutti i miei video, a tutti quelli che hanno visto i miei video 5, 10, 15.000 volte, tocchiamoci, un'emergenza. A tutti quelli che hanno visto i miei video tante volte, mi pregherei di guardare anche tutti gli altri, per favore aiutatemi. Però questo è il mio problema, qualche video me l'hanno visto 12.000 volte, ma pochi, su 425-427, il 90% le avranno visto 2-300 volte, e così non va. Allora vi prego, a tutti quelli che mi hanno già visto tante volte, di guardare il resto dei video, fate questo sforzo per me, cercherò di caricarne di migliore. A presto, ciao! Ci sono sempre un sacco di carretti, mannaggia, quanto folclore, quanta indigenza, per favore aiutatemi, se no finirò anch'io così, se YouTube non mi dà 100 dollari al mese. Guardate tutti i miei video, così io pago tutte le mie spese, ciao! Mi raccomando, eh? Aiutatemi, che Dio vi aiuta! Ciao! Vi sto facendo la stessa come potete vedere. Speriamo che YouTube mi dia il 100 dollari, vi prego, aiutatemi. Cerco di fare 10 minuti di scio per metterci tanta pubblicità. Ah, qua stiamo ai vini. Mi piacciono i vini? Eh, qua ce ne sono un bel po', però io non mi posso comprare. Non me ne comprerò tanti, perché volevo fare un tutorial enologico, ma finché YouTube non mi dà 100 dollari, qua sono molto cari. Allora, mi raccomando, fate clic in tutti i miei video, il prossimo tutorial lo farò su un bel vinello, magari uno caro. Quali vini vi piacciono? Io vi farò il tutorial, però, ecco, magari anche su un whisky. Però, eh, mi raccomando, fate clic su tutti i miei video, così mi prendo un whisky da 500 euro e ci faccio un tutorial. Guardate quanti, quanti whisky, quanti vino, però mi raccomando, eh. Non mi descaudate, non mi lasciate solo. Fate clic, così posso rinnovare internet il prossimo anno e comprare un computer di auto-nuclei, magari di 3, 4. Eh, se no mi ridurrò a bere questo. Invece io ho pensato a qualche bottiglia, allora mi raccomando, fate clic, così il prossimo tutorial sarà enologico. Una bella bottigliona da 200 euro di vino rosso. Magari di vino da due soldi, però è importato. Ti raccomando, eh. Grazie per seguirmi così numerosi e di iscrivervi sempre di più nel mio canale. Io voglio vedere i vostri video, ma voglio anche che chi si iscrive al mio canale guardi tutti i miei video. E quindi, come dire, grazie di seguirmi, però guardate, non iscrivetevi solamente perché ho messo in vita. Ciao! Che vinelli, che vinelli, guarda, guarda, bisogna spendere tanti bei soldelli. Se voi guardate i miei video, io ci farò dei tutorial su ogni bottiglia. Ve lo prometto. Ciao, eh. E grazie di seguirmi. E... Ciao!